Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera. Ah no, voglio solo esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime, purtroppo dell'alluvione che è successa in Toscana. È importante perché è Juventus-Fiorentina e quindi è sempre una bella partita anche per lo sfotto che c'è tra le due società, soprattutto le tifoserie. L'infortunio di OEA o sposterò McKennie a destra, come è molto probabile, altrimenti giocheremo in modo diverso, però credo che la squadra ha delle certezze e su quelle bisogna andare avanti. McKennie è un buon momento, è cresciuto sia fisicamente che tecnicamente, ma soprattutto a livello mentale, ma deve crescere ancora. Sono molto contento perché è stato anche riconvocato in nazionale. Lì a sinistra, ora tra l'altro che manca anche OEA e Cambiasso potrebbe giocare anche a destra, lì a sinistra in questo momento tra Cambiasso, Kostic e Eiling sono tre giocatori che sono in buona condizione. Ora che manca OEA magari ci sarà bisogno che uno tra Cambiasso e Eiling possa addirittura fare il centrocampista. Io reputo la Fiorentina una delle squadre più attrezzate del campionato perché hanno molti giocatori rosa, perché hanno una buona rosa con giocatori tecnici e fisici anche, quindi credo che sia un antagonista per la lotta dei primi quattro posti secondo me. Federico sta meglio, è stato qui 20 giorni praticamente che si è allenato poco nel periodo della nazionale e ora invece sta molto meglio. Per quanto riguarda Mattias non avevo nessun dubbio che lui avrebbe fatto molto bene a Frosinone, ma già l'ha fatto bene l'anno scorso qui nella Juventus perché ricordiamoci le partite buone che ha fatto a Milano contro l'Inter, altre partite sia da titolare che da subentro. Però va bisogno di giocare, poi devi fare delle scelte perché averlo tenuto qui un altro anno a fare poche partite sarebbe stato deleterio sia per il valore patrimoniale della società sia per il ragazzo. Loro sanno che sono importanti non per questa partita, sanno che sono importanti per la Juventus, Vlauvić, Chiesa, Milik, Ken e Ildiz, come tutti gli altri giocatori. Non è una questione di essere importanti per questa partita. Noi vediamo alla fine della stagione che noi dobbiamo giocare di squadra, che ognuno deve mettere i propri obiettivi personali al servizio della squadra perché come di solito succede se alla fine arriviamo a ottenere risultati, gli obiettivi, tutti abbiamo vinto, altrimenti non c'è uno che vince e uno che perde. Quindi noi bisogna avere il profilo molto basso, parlare poco e correre molto. Per quanto riguarda tra Alexander e Danilo è più probabile che rientri il primo Alexander e Danilo. Perché? Perché Danilo abbiamo fatto un controllo sulla piccola lesione che ha avuto e non è ancora a posto. E visto che la lesione è molto profonda, le lesioni molto profonde di solito anche se sono piccole ti ingannano perché non ti danno dolore ma ti creano molto danno. No, no, no. Sì